Salve l'equipe io sono Sergio e ben ritrovati in questo nuovo video oggi con una chicca pronta pronta appena calda appena sfornata perché questo gioco è uscito ieri il 26 di febbraio si ritorna negli anni 60 ragazzi con meter 60 second adesso penso che sia un plagio proprio per 60 second ma dato che non so niente andiamo subito a giocare a startare il gioco vai è gratuito cioè potete trovarlo gratuitamente su steam ok ultime notizie del gameboy che cos'è questo c'è da no so bo 10 seconds left to live eh cosa ho 60 secondi per vivere dopo la terra verrà distrutta hai 60 secondi per vivere dammit I just be a ah perfetto che cosa facciamo facciamo follie pazzie spogliamoci fuck life la tua casa a questo sono io madonna quanto sono bello guardatelo là blu forse perché ci mancherà respiro però è bello eh let's go non ho il tempo che cosa si ma cosa cosa ho due pulsanti posso o baciare non posso neanche saltare ah ah bello ah bello madonna madonna bacetti 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 tanti bacetti no voi no no non mi dai un schiaffo ti do un bacetto ma pure tu a casa questi non mi sono mai piaciuti via a casa c'era il raggio per partire lì cosa e poi muoio così paradiso is shit this co cosa era la presentazione di una tecnologia nuova analizzando questo le persone escono il proprio carattere oh my god anche la mia famiglia l'ha visto aaaah zio perché ho ucciso le persone è bello uccidere ah si sbloccano anche ma ma che che ma che cos'è questo gioco skip skip skipiamo perché non vedete get ready non fatevi perdere vai dammi la mazza da baseball vergognata andare via tu signorino vada via lei non mi piace voi i due sgonviati via a casa sulla polizia no ah bacetto 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 da me bacetto si leppi lei eh non mi fa passare però io ammazzo tutti a 18 secondi potrei ammazzare tutti eh vai qua non ci provate a scappare via 8 7 cane quanto è grande il cane cosa devo fare non ho capito c'è non mi è chiaro non mi è chiaro ah mi segue ecco tu tu hai un bacetto tu hai un bacetto ma non tu vabbè lasciamo perdere oh e sgognati andateveni via dai vieni vieni tu devi distrarre il poliziotto dai sicuramente distrarre il poliziotto vai e ne ranmeri via dai vieni la mazza di pierre il poliziotto vi cedere 지난 bur vodka checklist bla 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 get ready 3 2 1 tu vieni allora tu vieni ma che cosa pensi di fare tu vieni devi dare uno schiaffo al poliziotto dai tirano schiaffo al poliziotto oh ci ho fatto sì una ribellione c'è stata ci ho fatto Oh mio Dio E adesso Cosa faccio? Ma io non ho fatto quello Vabbè Vabbè Dai un bacino al cane Ah di qua c'è Ah si accoppiano Bellissimo L'arma Oh mio Dio Ah vai vai Devo prendere la bomba nucleare E devo andare lì Madonna che genio No da qua 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 Venite con me Venite con me Dai venite con me Zero ce la faccio No dai Come non ce l'ho fatta Vai rifacciamo Adesso mi sento carico So quello che devo fare Dai così È un gioco un po' Ambiguo Consum Che caspita Vai così Dai bacetto al cane Vieni con me cane Vieni con me Bravo bravo Accoppiati bravo Sì presa presa You have a nuclear received No No Adesso dove la prendo l'arma Madonna vai a casa Vai a casa Vai a casa Dai bacetto Vieni bacetto con me Dai devo andare a poggiare Vai 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 Veloce Poi lasciare la luce No no Come Come Dammi la mazza Ti ho detto Dammi la mazza Vai che vuoi fare Vai 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 coppia di cane Bravo così Bravissimo Bam bam Prendi la cosa Qua 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 Vai 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 Non perdere tempo Bacetto Bacetto Bacetti Fura voi Che stai facendo Con l'arma Potevo farlo così Senza niente Dai come faccio A mettere l'arma Però No Ammazzate il cane Come l'ammazza adesso Quell'altro cane E fammi passare Fammi passare No Madonna Va trippo di botte Taccane Dai bacetto Taccane Vanda questo Super orbita Vai così Vai così Vai così Vai dai ti prego Cagnolino Innamorati Dai cagnolino Dai 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 Veloce 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 In 37 secondi Non posso fare niente Dai dai I have got a nuclear Received Se la piazzo qua Che succede Ma è scoppiata prima Quelli ci sono vari modi Di uccidersi anche Ok perfetto Ci do un bacetto Ci do una mazzata A questo coso Vado passo Lo faccio accoppiare Passo Prendo l'arma Esatto Sparo E adesso schizzo Vai 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 Veloce 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 Cioè doveva pur morire qualcuno Quindi vai Piazza Piazza E risali No perché non vai risalire Sei destinato a morire Ho salvato la terra Sìììì Sono Superman In questi casi Mamma La mia ragazza E il mio Nipote Ah Sono come Bruce Willis Nel film Armageddon Ho salvato la terra Sììììì Ho visto che ci sono Tanti Modi di finire Il gioco Dice che la polizia Si può evitare Di ucciderla Ma ovviamente ci vuole Trashy Marderer E certo respirare Questa è bellissima Ci sono ancora 6 missioni da fare Ovviamente concludo qui il video Io ritornerò con un altro episodio di Meteor 60 Second Ovviamente cercheremo di finire tutti quanti gli obiettivi Quale il pollicione in su Condividete, spolliciate, iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Iscrivetevi qua sotto un commento Con l'hashtag Roat500 Per l'estrazione del grande concorso Noi ci vediamo domani Ore 15 in punto Con un nuovo video Salve l'equip Ciao